allora cinque secoli fa ci avrebbero messo al rogo 50 anni fa ci avrebbero censurato oggi si sorride ma non diamo fastidio a nessuno per dimostrare coraggio e spregiudicatezza dovremmo prendercela con un'altra religione da dove vengono queste frasi queste frasi qua questi pensieri così sottili provengono da uno spettacolo di quotidiana.com prima che arrivi l'eternità episodi di assenza uno scienza contro religione però però precisamente arrivano dalla penna acuta di masolino d'amico che scrive ovviamente sul quotidiano la stampa che a chiosa della 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 visione di questo spettacolo appunto ha scritto a riguardo di questo spettacolo di assenza fatto a castrovillari primavera dei teatri scrive questo bellissimo commento che noi non sappiamo se esserne orgogliosi o questo a chiusura a a a Grazie.